Prova a vincere 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 Grazie. Grazie. Faccio i complimenti per il nome, no? Il nome è unico. Sono pochi. Io racconto giorno e notte il colore e il costume, allora qualsiasi curiosità cattura la mia attenzione. È un nome inconsueto per una giovane. No? Siete in poco. L'età minima per il vostro lavoro, sono 18 anni. Ok. 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 andiamo a fare l'agraffo e il ristorante